E appena cominciata una settimana all'insegna del maltempo, una vera e propria frustrata invernale che porterà anche precipitazioni nevose con temperatura in diminuzione sulle vette del Partegno. Come mostrano le immagini dell'osservatorio di Montevergine, in queste prime ore della mattinata sono caduti alcuni centimetri di neve fresca. La temperatura è scesa a meno uno durante la fase più intensa dei fenomeni. Nelle prossime ore potrebbero manifestarsi nuove precipitazioni. I fenomeni assumeranno carattere nevoso a partire dai 1200-1300 metri. Nubi e locali fenomeni insisteranno anche nelle prime ore del pomeriggio per poi lasciare spazio a qualche schiarita. La protezione civile della regione Campania ha infatti prorogato l'avviso di allerta meteo di colore giallo fino alle 16 di oggi su tutta la Campania, ad esclusione di Alta Erpini e Sagno, Tanagro. Proseguiranno le precipitazioni locali anche a carattere di rovescio temporale. I temporali potranno essere intense e repentini e potrebbero essere accompagnati da fulmini e grandine con raffiche di vento. Si evidenzia un possibile rischio idrogeologico con allagamenti, quindi è utile fare attenzione a coperture e strutture provvisorie, oltre che alla caduta di rami o alberi. La protezione civile raccomanda le autorità competenti di prestare attenzione rispetto alle criticità previste.